Ci siamo combattuti in mille modi nelle nostre sfide di Lucky Block, ma un modo è mancante ancora ed è forse quello più importante. Vuoi indovinarlo tu, mio piccolo amico bluastro? Beh, direi che quest'oggi noi siamo belli ricchi, mentre voi mi sembrate un po' poveri, eh, con quella terra. Fai conto che come arma utilizziamo due grossissimi barili attaccati a un bastone. Wow! Con lo scotch proprio. Sì, sì, proprio triste, però funzionano. Danno delle maschacra, vuoi provarli? No, grazie. No, 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 no. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guarda che... Non mi sparare. Ti sparo nei piedi. Non ci provare, sai? Questa volta, però, per stabilire il vincitore, il sistema è diverso. Voi dovrete trovare il maggior numero di blocchi ricchi dai vostri blocchi Lucky. Ok. Noi invece dovremmo trovare il maggior numero di blocchi poveri dai nostri blocchi Lucky. Vincerà quello che alla fine avrà trovato più blocchi del suo tipo. Ferre, per una volta nella vita devi essere fortunata. Promettimi che oggi avrai un po' di fortuna. Ma non lo so, non lo sono mai, non me lo puoi chiedere. Allora, Ferre. Non te la posso fare come promessa, però ci provo. Tutte le volte parte male. Quindi, secondo me, il primo blocco che distruggi ci farà capire se quest'oggi avrai un po' di fortuna e possiamo vincere. Vai, spaccavi un blocco. Allora, aspetta, lo devo scegliere bene, Stef. Ok. Devo concentrare secondo me. Scegli bene, Ferre, mi raccomando. Ok. Ho preso un po' di danno, ma non è successo nulla. Non siamo morti, riprovo un'altra volta. Dobbiamo avere una conferma maggiore. Ok, allora. Dei polli non sono né bene né male, nel senso che adesso li dobbiamo curire, però almeno non ci picchiano. Vediamo un altro, Ferre, forza. Cos'è? Ok, delle mashed potatoes. Penso sempre al cibo. Vai, ne apro uno io. No, Stef. Ferre, sono un po' troppi. No, Stef, sono troppe. Aspetta, no, cioè, per quanto mi piaccia non le devo far fuori. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, poverine, però sono troppe, sono troppe, sono troppe. Ma non ho mai visto così tante pecore. Però non direi che ho avuto più sfiga io di te. Riprova, Ferre, vai. Uh, bella, bella, bella. Beh, questo è tutto d'oro, Ferre, quindi teoricamente va a valere. Addirittura anche una sella, non si sa mai che tu voglia cavalcare. Questo è per te. Un pollo. Tieni. Che cos'è? Una romantic rose. Ma non me ne faccio nulla, Ferre. Oddio, Stef, ecco, questo è il problema. Siamo tornati alla vecchia maniera, Ferre. Ecco qua. Non bastavano gli zombie, no? Gli zombie sopra gli spider. Sopra i ragni, esatto. Quindi trapeggio. Qua tutto di diamante. Vabbè, Ferro. Ma dai, sono animali. Milk me, ma che milk me? Ma non vi vogliamo milk me. Ci servono blocchi oggi, non ci servono animali. Ferre. Ok. L'hai fatto tu, Stef. Lo so. Sei stato tu. Ferre, io ve lo strano. C'è tipo una nebbia. Vedi anche tu così? No, per ora no. L'ho visto per un momento, però adesso è sparito. Guarda il mio schermo. È stranissimo. Io vedevo tutto blu, ma proprio blu scurissimo e poi è passato. Ma che strano, non lo so, Stef. Ci sto anche morendo con questi ragni maledetti. Aiutami, Ferre. Ho mezzo cuore. So io come fare ad avere fortuna. Ok, ti ascolto. Allora, abbiamo trovato questa pala di diamante bellissima. Sì. Io la lancio. Nel blocco in cui va, noi troviamo qualcosa di raro. Quindi in questo blocco, guarda. Ma in mezzo. Hai visto? Oh. Hai visto? Più o meno. Non lo so se... Non è male. Se può essere considerato raro. Non lo so. Neanche sortunato. Allora, ci riprovo. Guarda, questa volta saltando. Ui. Ok. Ma è al centro di quattro. Io li apro tutti e quattro. Ok, vai. Mi sembra... Guarda. A parte i pipistrelli. Le armature d'oro. Le armature d'oro. Ferre, è andata bene. Esatto, esatto. Mamma, ma sono troppi, però. Ferre. Uh. Ferre. Aspetta. Questo vale. Questo vale. Questo è bello. Questo è bello. Finalmente qualcosa di bello. Ok. Te la senti tu? A fare cosa? A trovare qualcosa di bello? Sì. Perché c'è un pipistrello che tiene uno slime? Lo vedi? Sì. Non lo so. E poi mi sa che hanno avuto anche loro a che fare con le pecore. Eh, questo. Vabbè, per me è una cosa bella. Guarda le faccia. Perché sono bellissime. Hanno il monocolo. Cioè, sono fantastici. Ci sono la cosa più bella che abbiamo mai visto. Questi non li uccidiamo. Li lasciamo qui a farci compagnia. Questo è un Lucky Villagers. Eh, se avessimo diamanti ci darebbe un'aromatura fortissima. Eh, peccato. Che varrebbe tantissimo. Cerchiamo di lasciarlo in vita, comunque. Ok. Altri Villagers. Va bene. Ok, quelli erano incapitate anche a me. Vediamo qua. Qua è pieno di cianfrusaglia. La lava può essere considerata? No, vero? No. Forse no. E se andiamo a buttargli un po' di lava? No, dai. Sarebbe troppo cattivo. Aspetta, sì. Sarebbe una bella idea. No, no, no. Fere, fere, fere. Dammi la lava. Dove sei? Qua, qua. Dietro di te. Non ti vedo? Mi vedi. Eccoti. Tieni. Guarda che cosa hai in mano. Hai capito? Sì, vai. Allora. Se vuoi ho dell'acqua, se vuoi essere meno cattivo, eh. No, no, no. Anche dell'acqua. Vado. Vai. Ok. Allora, io adesso sono qua. Loro non so se mi hanno visto. Non ti hanno visto. Ciao, Anna. Anna. Scappa. Scappa, 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 scappa. Steph, cioè io ho visto la clay che so che è un blocco abbastanza povero, ma lì sopra che c'è? Aspetta. Credo che sia un blocco di diamante, fere. Sì, 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 sì. Spacca tutto. Spacca tutto. Ah, ma non cade, non cade, aspetta. Allora, ci penso io, ci penso io, fere. È un blocco di diamante, secondo me, no? Mi sa proprio di sì. L'ho preso? Ma l'ho preso, fere? Eh sì, ti ho visto prenderlo. Block of diamond. Perfetto. Oh, yes. Allora, la clay invece la buttiamo perché per noi non conta. Sì, 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 non ce ne facciamo proprio... Ho buttato il mio piccone di diamante, per sbaglio. Steph, per un attimo ho pensato che avessi buttato il blocco di diamante. Beh, è quasi la stessa gravità. Cosa vuole, signorino? Cosa vuole? Io lo sparo? Ma chi vuoi sparare? Ho sparato a Lion. Sare, ci possiamo fermare un attimo e fare un po' di pulizia? No, non si può. No, non si può. Guardati intorno, secondo me... E lo so, è un disastro. Non è il caso di continuare così. Poi con i polletti che ti seguono e ti guardano. Steph, scusa. Beh, quello è un ghast con uno zombie sopra. È colpa mia. Ok, il ghast l'ho steso. Vai, anche questo. Adesso serve lo zombie. Uccidilo. Veloce, prima che muoio. Sono bassissimo. Buttalo giù almeno. Ok, ok. Andata. Bello, 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 bello. Ce lo facciamo, dai. Mamma mia. Ok. Direi... Uh, aspetta, aspetta, aspetta. Qua devi buttare qualcosa dentro, lo sai? E cosa ci possiamo buttare? Guarda, tipo... Basta fare così. Vedi? E questo è un beacon. Prendilo, prendilo. Guarda, no, aspetta. Ti ho dato un diamante, lo vedi? Dove? Guarda, ce l'ho in mano. Ah, perfetto, ma devi prendere anche questo, questo qui dentro. Dici che è raro? Sì, è rarissimo, Ferre. Che conta come blocco raro. Sì, 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 sì. Non potranno dire che non vale, guarda. Non potranno in nessun modo possibile. Comunque mi riserverebbe un piccone, quindi se lo trovi fammi sapere. Ok. Ferre, sono spawnati anche degli smeraldi e dei diamanti, ma io ho iniziato a laggare tantissimo. Anche io, perché c'è troppa gente. No. Ferre, guarda cosa è arrivato da loro. Girati. Aspetta, no, 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 non voglio guardare. Cos'è arrivato? Oh, mamma mia, poverini, non li invidio. Speriamo che non capiti a noi. No, non li invidio, guarda. Però noi abbiamo la palla fortunata, guarda, eh. Guarda, questo qui, questo è fortunato. Oh, yes, una nether star. Steph, stanno attaccando anche a noi, eh. No, ignora, gli fai la tutta posta, tutta posta. Allora, poi questo. Che succede? Sono in prigione, Steph. No, 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 non in questo momento. Chiedo perdono. No. Chiedo umilmente perdono per tutto ciò che è successo. Aiuto. Muori zombie. Oh, troppi, Steph. Ma dai, ma non muoiono. Non muoiono poi, non muoiono. Ok, ce l'ho fatta. Devo recuperare vita, devo recuperare vita, sto morendo. Io ho un problema gigante, Fere. Quale? Devi andare tu a prendere quel diamantellino alto. No, devi andare tu. No, io non ho il piccone. Non mi interessa, io non ho vita, Steph, ok? Appunto, prendi i picconi invece che combattere. Che noioso che sei. Vai, 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 su, vai lì sopra, vai lì sopra. Da brava, su, arrampicati. Io non ho niente blocchi da darti. Steph. Dimmi, Fere. Devi venire a baciarmi i piedi. Perché? Cos'è successo? Ho appena trovato la fonte della vita. Fammi vedere. Oh. E non ho finito, eh. Non ho finito perché poi anche gli smeraldi, un sacco di oro. Ho trovato anche del ferro, ma quello non lo contiamo, quindi poi lo butto. Però tutti questi diamanti e tutti questi smeraldi fanno gola. Finalmente, Fere. Finalmente qualcosa di buono. Eh, penso che ce la caveremo nella sfida. Perché stiamo trovando tanti materiali preziosi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti do qualcosa in cambio. Perché sei stata brava e ti meriti un premio. No, cosa mi stai da... Ah, questa è bella, questa è bella. Hai visto? È bella, sì. Ma la mangio pure perché ho fame. Uh, le carote d'oro secondo me comunque un po' di valore ce l'hanno. Perché sono pur sempre dorate. Quindi me le prendo. Ok. Mi hai conservati tu i diamanti? Oh no. Sì, Fere. Sono al sicuro almeno. Perché adesso penso che noi non saremo al sicuro. Cioè stanno volando su dei pipistrelli. Già, Fere. Sono ancora più fastidiosi, accidenti a loro. E mentre ci tirano le pozioni, Fere. E nel mentre... Cioè sp... Sì, Fere. Spuntano dei lupi, volevo dire. È proprio così, Fere. Non fa! Sono morto, Fere. Fere, vado a fare un assalto. Va bene? Vai. Vado lì nascosto. Sono caduto. Ti ho visto. Ma perché mi devi fare queste cose? Perché, Steph? Vabbè, loro non lo sanno. Quindi la figuraccia l'ho fatta con te e con i consolini. Almeno non con la Ionanda. Sai cosa ti faccio io, Steph? Per inizione. Ti faccio conoscere un mostro molto bello. No, 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 Fere, Fere. Lo vuoi conoscere? No, 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 no. Ma secondo me ti piace? Dammi il piccone. Ma smettila. Fidati, Fere. Ti. Cosa vuoi adesso? Ho veramente un piano. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Mi devo liberare un pochettino l'inventario. Praticamente ho visto che loro hanno lasciato dei blocchi di diamante perché loro devono prendere le cose da poveri. Hanno lasciato un blocco di diamante. Due blocchi di diamante. Li vedo da qui, sono due. E adesso io vado e li rubo. Va bene? Sì. Vale, secondo me, no? Nessuno ha detto le regole. Sì, nessuno ha detto di non rubare le cose, in effetti, eh. Nessuno l'ha mai detto. Io vado. Faccio silenzio. Prendo questo blocco d'oro. Poi sempre resto in silenzio. Prendo quest'altro blocco d'oro. Loro non ci stanno vedendo, vero Fere? Mi sa che non ti hanno visto. Ti avrebbero già ucciso, altrimenti. Anche secondo me. Qua c'è pure un beacon. Lo prendo, lo prendo, lo prendo. Dai, veloce però che poi mi beccano. Ok. Ok, ok, ok. Questo non riesco a prenderlo perché c'è un enderman che lo difende. Hanno un caos incredibile, non mi stanno notando. Secondo te riesco ad arrivare anche ai blocchi di diamante? Lo spero, eh. Sarebbe bello. Oh no, Lion mi ha visto. Ecco qua, ecco qua, è finito tutto. Scappo. Però secondo me non ha capito ciò che ho fatto. No, no, lui non ha capito, lui non ha capito. Mi vuole picchiare e basta. No, 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 no. Ok, mi hanno ucciso. Eh, ci stavo. Allora, ci siamo fatti quattro blocchi d'oro, un beacon e anche qualche blocco di diamante. Ok, perfetto. Quindi ne valso la pena. Ti odio. Mi hai spinto, mi so. Sai cosa stavo facendo nella vostra isola? Mi stavo prendendo tutti i blocchi d'oro e di diamante. Non vale, non vale. Lo sapevo. Nessuno l'ha detto, caro. No, non vale. Secondo me meriti una penalità. Ve li dovete prendere voi per non farli prendere a me, caro mio. Eh, ma all'infine con l'inventario pieno come fai a prendere tutto? Eh, lo so, infatti è difficile. Infatti era quello che stavo venendo a fare anche io nel nostro mondo. Ah, vedi, vedi. Poi dice che non vale. Però tu mi hai interrotto perché sei cattivo. Io sono tornato. Sai che noi siamo parecchio ricchi. Ma te, ma stavo buttando... Fere, ma non mi avvisi. No, non stavo guardando. Io sto pensando a fronteggiare gli Enderman, Steph. Rubo, rubo, rubo. Fere, ci sta rubando le cose. Vai via, vai via. Picchialo, picchialo. Ok. Ok, almeno lo mandiamo via. Ok. Nella cassa di ossidiana brutta scura ci sono le cose povere che io e Anna abbiamo raccolto. Nella cassa di diamante luccicante, bella, sì, sì, sì. Ci sono le cose ricche di Steph e Fere. Eh, sì. Questa è il nostro tesoro, caro mio. Tante, tante. Lo vuoi vedere? Aspetta, insieme vedremo tutte le cose. Ragazzi, state attenti, anche voi, ovviamente, perché sarete i giudici finali di chi avrà vinto. Vediamo questa cassa. Forza, apriamola tutti insieme e spiegami perché, secondo te, meriti la vittoria. Allora, prima di tutto, guarda che bello quel giallo lì, tutto d'oro. Tutta questa roba dorata, molto bella. Mi piace, mi piace. Abbiamo 31 lingotti che comunque valgono tanto. Un po' di mele. Anche 35 diamanti, vedo. 35, sì, però... Eh, guarda bene, anche 4 d'oro, uno di smeraldo, ok? E 43 smeraldi. E poi abbiamo armature di cavallo, sia dorate che di diamante. Beh, quelle sono zozze, secondo me. No, dai, non è bello. Non tanto. Però sono impressed da tutti quei blocchi di diamante, blocchi di oro, lingotti. Eh, sono tanti, eh? Sono tanti, sono tanti. Guarda in basso a destra, però. Vedi quella Lucky Sword? Beh, quella non è chissà che. Eh, ma ce la stai insultando qua. È bella, è bella. Hai ragione, hai ragione. Poi due Nether Star e quattro Beacon che comunque non sono male, eh. Hai ragione. Abbiamo fatto un bel bottino, devi ammetterlo. Sai perché ti dicevo della Lucky Sword? Ahà. Perché l'avevo trovata anch'io. Adesso tocca a noi. Ok. Noi abbiamo ovviamente più cose perché le povere sono più frequenti, diciamo. Però, a parte tutta questa marasma di blocchi poveri, con anche utensili, armature, un po' di tutto, ti voglio far notare le cose sulla destra, che sono un po' quelle speciali. Ok. Tra cui, l'unica speranza, che è un fungo. Ho notato. E se la tua unica speranza è un fungo, secondo me... Sei proprio povero, sei proprio povero. Guarda che sta giocando bene. Poi, una sella, vabbè, la sella, niente di che, si può mettere su un mulo, magari sei più povero. Due encudini rotte, quindi, ancora me, due patate velenose, uno schifo, per dire. Sì. Poi, anche qua, una cosa super rara, un purè di patate. Wow. Eh, che fa male perché picchia. Io mi immagino alla scena di Lion King, mentre ma saremo, verrà felice di trovare un purè di patate. Anch'io, sì, ma sto immaginando, le encudini rotte. Un pollo crudo, che fa male pure perché... Certo, certo. Una canna da pesca, fortunata, questa... Eh. Non so se... Eh. Però, tecnicamente, il pescatore... Eh, però, fortunato, tu non sei fortunato. Quindi, a questo punto, ragazzi, in entrambi i video, sarete voi a dover decidere chi ha vinto. Ovviamente l'anno. Ovviamente noi. Chi? Ovviamente noi. Scusa, no, basta, basta. Prendo il pollo. No. Addio. Ma no. Tutti giù. No, 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 no. Io scappo, io scappo. Io me ne vado. Sono morto. Io me ne vado. Io scapparmi col pollo. Perché se... Lasciateci un like. E se la prima volta che avete un altro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.